Sicuramente serviva il gol per consacrare una ottima prestazione. Sì, sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la nostra vittoria, perché tutto quello che abbiamo in spogliatoio, quanto ci serviva, quanto volevamo questa vittoria, quindi veniamo anche delle partite che secondo me abbiamo perso dei punti, a parte quella di Frosinone che è stata veramente una brutta partita, però sono molto felice per oggi, però bisogna dimenticarla già, perché martedì abbiamo un'altra guerra. Trovate delle certezze in più, è stata una settimana proficua per tanti aspetti, di squadra sì, sin dall'avvio, con l'inerzia a favore, ricreare anche l'entusiasmo con il pubblico in casa? Non si sente mai male, purtroppo. Partiamo da studio, Sonia. Arturo, ti chiedevo, anche ricreare l'entusiasmo con il pubblico, credo sarà decisivo per vivere questo rush finale del 2021 e la corsa che torna forte per le zone alte di classifica? No, 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 assolutamente, vorrei iniziare e chiederlo anche ai tifosi nostri di essere vicini a noi sempre, perché siamo veramente un gruppo sano che tutti si prendono le responsabilità, ci sono dei momenti di difficoltà come se sia stato fino a oggi, però abbiamo fatto una bella partita e una vittoria importante per andare avanti, quindi è stata una buona settimana di lavoro e abbiamo messo tutto oggi in campo, bisogna continuare così. Per te, Billy Nuzzolillo. Ciao Arthur, oggi ho rivisto il giocatore che ammirai e scoprì ai tempi del Verona, dinamico, che si inseriva in zona tir, che creava difficoltà agli avversari. Si può dire che quella di oggi sia stata la tua migliore prestazione da quando vesti la maglia del Benevento? No, non sono d'accordo, secondo me anche l'anno scorso facendo la mezzala ho fatto delle buone partite e poi come è capitato anche in questa stagione che il mister quando aveva bisogno di me magari in un altro ruolo, diversi ruoli, mediano, esterno, io ho sempre la mia disponibilità, ovviamente non posso dare quello che posso dare come mezzala perché è quello che mi piace di più a farlo. Secondo me c'è questa libertà, posso dire anche mentale, dei movimenti perché viene tutto in automatico anche se magari ogni tanto c'è bisogno di fare dei spazi per i giocatori più forti individualmente come in Sine, come in Prota, io lo so che devo attaccare quegli spazi, devo fare spazi per altri e che secondo me oggi c'è stata una bella partita da parte di tutti. Soprattutto lavoro oscuro per i compagni che poi vanno in copertina. Sonia, a te. Tra l'altro le ultime dichiarazioni di Ioniza sono importantissime anche alla luce di quello che dicevamo noi prima Carmine dell'importanza della continuità e di darla, di dare delle certezze a un calciatore che può adattarsi ma all'occorrenza ma che ha bisogno di trovare una propria dimensione. Quanto è stato bello riabbracciare te mai? Sì, sì, l'abbiamo fatto. Ovviamente gli ho dato solo un abbraccio, un bocca al lupo perché ovviamente non puoi parlare tanto, soprattutto dopo una partita di genere. secondo me anche io, dopo Frosinone, non volevo abbracciare nessuno, era nervoso, è tutto qui. Quindi però è sempre un amico che ci dava tanto in spogliatoia anche come persona.